Poracci stasera ci sarà una live extra straimprovvisata Proveremo i Takes Two sul sito Viola con un ospite speciale Si tratta veramente del gioco dell'anno? Scopriamolo insieme, l'appuntamento come al solito è alle 21.30 A dopo Comunque bravissimi che tutti mi avete riconosciuto Asuras Wrath Un gioco che semplicemente adoro Rick Bionicle è stato il più veloce di tutti Mentre la risposta migliore è di Diego Che ci ricorda la più grande zozzata mai fatta in un videogioco Però il finale era veramente una figata Va bene, passiamo oltre Di che gioco si tratta? Mi raccomando, solo risposte palestrate Sorprendetemi Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro L'unico format di YouTube dove si parla di videogiochi con una sola colorazione disponibile La puntata di oggi sarà ricchissima perché ne vedremo di tutti i colori Ma proprio letteralmente Parleremo degli impressionanti dati di vendita di Switch in tutto il mondo Delle nuove colorazioni di PlayStation 5 E anche del ritorno del Game Boy definitivo Ma fermi tutti Sapete che guardando i primi 30 secondi di questo video Siete automaticamente entrati a far parte dell'armata Poraccia? Mi dispiace ma da contratto siete obbligati a partecipare alla conquista non violenta di YouTube Italia Lasciate quindi un like, iscrivetevi attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti i fronti Instagram, Telegram, Twitch e anche Porion Trovate tutti i link necessari in descrizione Bene, ho detto tutto, iniziamo! Bene, partiamo con qualche notizia al volo Perché se siete rimasti un po' interdetti dall'annuncio del porting di Persona 4 Arena Ultimax Per tutte le console, inclusa Switch Secondo il leaker Zippo potete ancora sperare in qualcosa di meglio da parte di Atlus I festeggiamenti del 25esimo anniversario della serie infatti sono lontani dall'essere terminati E sono ancora tanti i progetti che devono essere annunciati come accompagnamento alle celebrazioni Se del quinto capitolo abbiamo solo il seguito in salsa musu e del quarto il picchia duro Secondo Zippo, Atlus starebbe pensando alla remaster di Persona 3 Portable su più piattaforme Quindi presumibilmente anche Switch Zippo ha anticipato il reveal di Persona 4 Arena Quindi l'ipotesi di questa remaster potrebbe non essere così campata in aria Per chi non lo sapesse, si tratta della versione di Persona 3 uscita per PSP nel 2009 Ed era di suo un porting espanso della versione PS2 Mi farebbe piacere riscoprire questo grande classico su Switch I PlayStation Studios continuano ad espandersi Dopo l'acquisizione di Housemarque, Bluepoint, Nyxess e Fire Sprite Anche il team, Valkyrie Entertainment, entra a far parte delle scuderie Sony Lo studio è un gruppo di supporto che negli ultimi anni ha collaborato a produzioni di grosso calibro Come Halo Infinite, God of War, Forza Motorsport 7 e L'Ombra della Guerra Sicuramente Valkyrie Studios riuscirà a dare un contributo fondamentale alle politiche di Sony Che punta gran parte del suo business sulla potenza delle esclusive PlayStation Ad oggi i PlayStation Studios sono formati da ben 17 realtà diverse Ma il capo della divisione, Herman Halst, ha dichiarato che l'intenzione degli studios È quella di continuare a espandersi, accogliendo all'occorrenza nuove squadre di sviluppatori Nel weekend c'è stata una piccola insurrezione da parte dei giocatori PC Infatti gli utenti si sono rivoltati contro Square Enix Dopo che il publisher ha annunciato il prezzo di due titoli in arrivo nel breve periodo Sia Final Fantasy VII Intergrade che Forspoken Sono stati aggiunti sulle piattaforme dell'Epic Game Store e di Steam In prenotazione al prezzo di 70 dollari Che vengono poi convertiti in circa 80 euro Che a conti fatti è il prezzo delle produzioni next gen al day one Ovviamente i giocatori PC si sono rivoltati Visto che poi uno dei punti di forza del PC gaming È stato sempre quello della convenienza sui prezzi dei software Per ora Square Enix è corso ai ripari facendo sparire il costo di prenotazione Ma è difficile dire con certezza come evolverà la situazione Speriamo in un dietro front da parte del publisher Anche se lo vedo molto improbabile E se anche altre aziende sposassero la strada intrapresa da Square Enix Il mercato PC è destinato a perdere uno dei suoi più grandi vantaggi rispetto al settore delle home console Ma passiamo alle notizie del giorno Sono arrivati i dati di vendita relativi al mese di novembre E in occidente Switch ha battuto ancora una volta qualsiasi record possibile A quasi cinque anni dal lancio della console L'ascesa della piattaforma ibrida sembra non conoscere interruzioni E ancora una volta è merito di un titolo che inspiegabilmente Continua a vendere come se fosse appena uscito Mario Kart 8 Deluxe Del successo di Switch a novembre durante il Black Friday nel Regno Unito ne avevamo già parlato Ma ora sono emersi ulteriori dettagli che rendono il traguardo ancora più incredibile Nella settimana iniziata il 22 novembre Nintendo ha infatti comunicato di aver venduto nel Regno Unito e in tutta Europa Più console e giochi di quanti ne siano stati piazzati precedentemente In una qualsiasi settimana a partire dal lancio della console avvenuto a marzo 2017 Il precedente record risaliva a novembre 2019 Ma questo traguardo è stato battuto per ben due settimane di fila Inizialmente quella del 15 novembre ha stracciato il risultato ottenuto due anni prima Per poi passare subito al secondo posto dopo la settimana seguente Il merito ovviamente è da attribuire al lancio dei due remake Pokémon Diamante e Lucente e Perla Splendente Ma anche al bundle definitivo Quello che include oltre alla console anche Mario Kart 8 Deluxe Che ricordiamo è il titolo più venduto in assoluto su Switch Nonostante si tratti di un porting di un gioco uscito nel 2014 Quasi otto anni dopo l'ottavo capitolo di Mario Kart Continua a vendere come se fosse stato appena lanciato Un risultato a dir poco impressionante Dati che vengono confermati anche sul suolo nordamericano Dove per il mese di novembre Switch è risultata la console più venduta in assoluto Staccando di netto i competitor Delle oltre 1.100.000 console vendute Ben 550.000 sono state piazzate durante la settimana del Thanksgiving e del Black Friday Chiudendo così novembre in testa alle classifiche Uno scenario che si è ripetuto 35 volte negli ultimi 36 mesi Ci sono ovviamente ancora numerosi problemi di produzione e distribuzione Che falsano in parte i risultati nel mercato Ma nonostante tutto Switch continua a essere apprezzatissima Anche da chi probabilmente già dispone di un modello dentro casa Poracci la domanda ormai sembra scontata Quando inizierà la Switch e il suo periodo di declino Vedremo mai un calo di vendite di Mario Kart 8 Deluxe? Sono risultati che nel 2017 erano semplicemente impossibili da prevedere E chissà cosa ci riserva il futuro Quello che invece era nell'aria era il lancio da parte di Sony Di nuove colorazioni di PlayStation 5 È arrivato infatti l'annuncio ufficiale di nuove varianti cromatiche E con esso anche informazioni sulla distribuzione e sul prezzo Vediamole un po' Dopo i brevetti e le denunce rivolte a tutte le compagnie Che provavano a mettere sul mercato le risposte non ufficiali alle faceplate Sono arrivate anche le cover ufficiali targate Sony Prima in realtà saranno lanciate tre varianti di DualSense Ovvero Nova Pink, Starlight Blue e Galactic Purple E dai siamo onesti I primi due sono un chiaro rimando ai Joy-Con Neon Mentre il terzo è il Viola Gamecube Di ispirazione è palese Questi tre si uniscono alle colorazioni già disponibili di Midnight Black e Cosmic Red E nel 2022 arriveranno le rispettive cover per mettere in tinta console e controller Non si tratta di console in edizione limitata Ma di semplici gusci rimovibili Che a quanto pare verranno a costare circa 54 dollari Mentre non è ancora dato sapere il prezzo in euro I primi ad uscire saranno il nero e il rosso a partire da gennaio 2022 Mentre gli altri colori seguiranno nella prima metà del 2022 E saranno ovviamente disponibili sia per PS5 con lettore che in versione digital Ora, mentre per il DualSense penso che bene o male tutte le varianti siano molto interessanti nella loro particolarità Sulla console secondo me sono un po' un pugno nell'occhio Ma io parto prevenuto perché sono nella schiera di chi non apprezza il design in sé della console Che trovo sproporzionata e sgraziata E questi colori non fanno che accentuare il suo design incomprensibile L'unica eccezione è il Midnight Black Che senza dubbio preferisco anche al colore standard E credo che comprerò anche per la mia PS5 Oltre a creare una sorta di continuità con tutte le precedenti generazioni di PlayStation Sembra rendere più compatta la scocca Che rimane comunque gigantesca e difficile da piazzare su una scrivania Comunque ora abbiamo i colori Mancano solo le console Voi cosa ne pensate? E chiudiamo tornando a parlare di Analog Pocket Quello che potremmo definire il Game Boy definitivo Dopo infiniti ritardi nella produzione e nella distribuzione La consola è finalmente arrivata tra le mani di chi all'epoca riuscì a preordinarla Ma è stato annunciato che domani sarà possibile effettuare il preorder nuovamente su un nuovo stock E vi dirò Io sono tentatissimo E vi spiego perché Analog è famosa per proporre delle reimmaginazioni di hardware storici in salsa moderna E il Pocket è proprio questo Una sorta di Game Boy sottosteroidi Compatibile con tutte le cartucce originali uscite su Game Boy, Game Boy Color e Advance Però con tutte le comodità dettate dalla tecnologia recente Lo schermo LCD da 3 pollici e mezzo Ha una risoluzione di 1600x1440 E tra le tante feature permette anche di ricreare la modalità dei display originali Non si tratta di emulazione La macchina è pensata per ricreare l'hardware originale per un'esperienza quanto più fedele possibile alle storiche console Aggiungendo però funzioni come lo sleep mode Una batteria a litio in grado di garantire dalle 6 alle 10 ore di gameplay E la possibilità di essere trasformata in un sintetizzatore MIDI da collegare al PC C'è anche l'entrata originale del link cable per poter giocare in multiplayer Ma non è finita qui Il Pocket ha una dock venduta separatamente Che rende la console ibrida proprio come la Switch Con un output a 1080p E inoltre la figata più grande di tutte Possono essere acquistati degli adattatori Che permettono di utilizzare cartucce Game Gear, Atari Lynx e anche Neo Geo Pocket Trasformando il Game Boy definitivo nella console portatile definitiva Il problema è il prezzo Il Pocket sarà prenotabile domani alle 17 ora italiana al costo di 219 dollari Gli adattatori costano circa 30 dollari Mentre la dock altri 100 Non è una spesa contenuta di certo Ma per i retro gamer incalliti questo è un po' un sogno che si avvera I più veloci potranno ricevere la console nei primi mesi del 2022 I meno fortunati nel 2023 in oltrato Voi proverete a prenderla? E questo però c'era tutto per oggi Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno Non mi resta che darvi appuntamento a questa sera per una live poraccia su It Takes Two Per capire insieme se si tratta effettivamente del Goti 2021 Altrimenti ci vediamo domani per un nuovo video Voi mi raccomando riposatevi Fate i bravi ma soprattutto nerdate duro Io sono il Poro Pocket Michele Midnight Ciao Ehi 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 fermo Se questo tipo di video ti piace Prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon Il Patreon dei Poracci Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale E in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto Come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa Secondo il Licker Zippo Potril 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 potril